ciao sono fani e ben ritrovati sul canale in questo video andremo a costruire dei cassetti per il mio armadio qua vedete alle mie spalle la particolarità di questi cassetti sarà che non utilizzeremo le viti ma utilizzeremo semplicemente delle spine in legno e il sistema di incastro quindi seguitemi nel dettaglio perché andremo a vedere come utilizzare un gig molto utile per fare questo tipo di giunzioni utilizzerò anche questa volta delle guide a estrazione totale con chiusura ammortizzata però quindi adesso vi faccio vedere nel dettaglio come sono fatte come le montate e poi vediamo anche come dimensionare i cassetti ok come possiamo vedere qui ho realizzato quattro cassetti quindi come dicevo sono dimensionati appunto su misura o non ho utilizzato viti e ho installato delle guide a estrazione totale cosa significa che il cassetto esce completamente quindi è completamente accessibile e la chiusura ammortizzata cosa fa quando io lo vado a chiudere non va a sbattere ma si chiude dolcemente grazie a una molla inserita nelle guide questo permette di prendere qualsiasi cosa in modo comodo quindi uscendo completamente il cassetto si riesce ad accedere a qualsiasi cosa in modo veramente comodissimo e poi si richiude quindi io così ho guadagnato tantissimo spazio rispetto a prima quindi adesso andiamo a a vedere come dimensionare i cassetti prima cosa da fare quando si fa un cassetto incassato e misurare la luce quindi vado a misurare l'armadio per capire quanto far grande cassetto qui abbiamo 891 mm di luce a questi cosa devo togliere devo togliere lo spessore delle guide le guide sono 12,7 mm al rotondo a 13 x 2 26 mm quindi da questo devo togliere 26 mm altro problema qua cos'è che io ho le porte le ante scorrevoli queste ante scorrevoli hanno un gap qua quindi mi rubano un po di luce io devo misurare anche questo quant'è quindi io qui ho 18 mm una volta fatte queste misure vado a ricavarmi quanto sarà grande il cassetto e anche per la profondità stessa roba il mio armadio è 56 e mezzo farò un cassetto da 55 giusto per essere anche perché la guida hanno misure standard quindi io prenderò delle guide da 55 cm farò il cassetto da 55 cm ha fatto una prova praticamente sono stato molto più in qua con la guida perché se accidentalmente io all'armadio non lo apro bene ma lo lascio così si può aprire un po di più un po di meno quindi nel dubbio ho lasciato un po di gioco un po di luce qui per non avere problemi col cassetto neanche se potevo andare più la comunque preferisco stare un po più dentro e mi sono regolato il cassetto di conseguenza praticamente cosa ho fatto per recuperare questo gap che ha l'armadio ho messo degli spessori qui anche lì per non diventare matto a piallare calcolare lo spessore al millimetro ho messo tre centimetri di spessore standard così ho messo due pannelli da 15 e da lì mi sono ricavato la luce che restante per montare il cassetto quindi prima ha fatto lo spessore quando ho la luce effettiva mi faccio le misure per fare il cassetto la guida va montata a filo dell'armadio quando andate a montare le guida estrazione totale come ho fatto in anche vedere in un altro video vanno montata a filo o appena appena in dentro quindi adesso vado a fissare questo all'armadio e poi in molto la guida a sapirle al massimo per cui c'è una una levetta questa si estrae è la parte che andrà sul cassetto quindi ancora una volta io metto la guida a filo del mio legno qua e poi posso andare a mettergli le viti faccio lo stesso lavoro da questa parte di cui ovviamente non ho bisogno di mettergli lo spessore quindi da montare la guida direttamente sull'armadio io devo direttamente sull'armadio i fianchi del mio cassetto il mio cassetto sarà montato così questo sarà il fronte e il fianco andrà in questo modo così quindi la misura finale la profondità finale sarà data dal fianco più fronte e retro potrei misurare lo spessore davanti e lo spessore dietro sottrarlo alla misura finale e selezionare e impostare la slitta però in questo modo avrei dopo il pezzo a troncare che cozza contro la battuta parallela e non sarebbe proprio il massimo del comfort un lavoro ancora più preciso da fare è sapere quant'è la profondità del cassetto quindi nel mio caso è 550 imposto la guida a 550 prendo due pezzi di scarto dello stesso spessore e materiale di quello che andrà a costituire fronte e retro del cassetto e li appoggio davanti alla guida poi prendo il pezzo e vado in battuta in questo modo così a questo punto blocco il pezzo tolgo gli spessori e sono pronto a tagliare in sicurezza col pezzo libero e dove verrà ancora più preciso di prima bene a questo punto vorrei fargli la scala natura per il fondo per installare il fondo che sarà un pannellino di faesite come questo da 3 mm un'opzione sarebbe usare la fresatrice fare una passata con la fresa farei molto più veloce però non ho la fresa da 3-4 mm la più piccola che ho è da 6 mm dovrei andare a comprarla ma ho deciso di fare in un'altra maniera userò il banco sega quindi farò in questo modo adesso imposterò la lama a un'altezza predefinita quindi il pannello dove andrò a inserire i fondi è di circa 15 mm quindi farò una scala natura a metà di 7-8 mm quindi vado ad impostare la lama a quell'altezza lì non è importante essere super precisi al millimetro però è un minimo allora io di solito quando imposto la lama scendo sempre sotto quello che mi serve e poi risalgo in questo modo la molla e la lama rimangono in tensione e non cadono e non scendono durante la lavorazione l'altra cosa è decidere quanto farlo profondo direi che almeno un centimetro bisogna lasciarglielo perché se andiamo troppo vicini al bordo restiamo che si spezzi quindi farò un centimetro e da lì andrò in su perché? perché la lama è da 2 mm a me servono circa 3,5 mm quindi dovrò fare due passate per forza quindi utilizzo un pezzo di prova faccio le due passate e vediamo come va ciao 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 Quell'attrezzino qua quindi state vedendo utilizzare, lo trovate anche della WorldCraft quindi su Amazon si trova, vi lascio il link in descrizione di questo perché è veramente fenomenale. Per mettere le spine è fantastico, ve lo spiego giusto in due parole se non l'avete mai visto praticamente potete mettere con questo spine da 6 da 8 da 10 e contemporaneamente questo permette di fare i fori in costa perfettamente in centro e riportare i fori sul fianco quindi potete fare giunzioni di costa giunzioni magari a metà in questo modo giunzioni magari così giunzioni in questo modo giunzioni così giunzioni così 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 qualsiasi giunzione con le spine ed è fantastico adesso vediamo la prima fase è fare il foro di costa quindi grazie a questi quattro spessori riusciamo a trovare il centro funzionamento è semplicissimo voglio mettere una spina da 10 prendo qualsiasi pezzo faccio questo movimento quindi lo incastro tra i due spessori e mi ritrovo perfettamente mi trovo perfettamente il centro se invece per esempio voglio fare il foro da 8 utilizzo questi due quindi prendo il pezzo lo incastro tra questi due e mi trova il centro stessa cosa con quello da 6 basta metterlo qua incastrano in questa maniera e automaticamente farò il foro nel mio caso appunto devo fare il foro da 8 quindi vale incastrarlo qua io adesso essendo un pezzo molto piccolo mi aiuto con un riscontro a fianco perché se facessi così non avrei abbastanza raggio quindi mi sono segnato più o meno dove voglio fare il foro così se da un lato mi tocca la guida basterà mettere dall'altra parte mi sono trovato il mio foro e vado a fare il buco perfettamente in centro un altro trucchetto da utilizzare prima di iniziare a fare i fori misurare le nostre spine nel mio caso questa con la spina da 8 è lunga 40 mm però noi dobbiamo calcolare che andrà quando andiamo a fare la giunzione qui non possiamo metterla per metà quindi per 20 perché sporgerebbe bensì io ho calcolato di metterla per 89 mm quindi tutto il resto gli altri 30 mm della spina devono andare qua dentro quindi mi sono fatto un segno sulla punta di circa tre quarti della spina in modo che quando andrò aggiuntare la spina entrerà per quasi la totalità della lunghezza dentro qui perché c'è spazio avanzeranno fuori 89 mm che andranno così e adesso possiamo andare a fare i fori sui fianchi io mi sono segnato che questa parte questo angolo andrà a congiungersi con questo quindi in questa maniera quindi io adesso adesso che ho il segno lo appoggio giù in questo modo sul gig mi devo segnare esattamente dove voglio andare a mettere la spina io voglio che quel legno vada esattamente ad angolo qui quindi cosa ho fatto come sono le spine esattamente a metà quindi io devo calcolare la metà dello spessore di questo e riportarla qui quindi misurando questo calcolando la vita mi imposto il fermo qui in modo che la linea delle spine sia esattamente a metà di questo dopodiché una volta la droga a fare questo lavoro troverò esattamente il centro e una volta montato il pannello sarà esattamente a filo comunque è più facile da far vedere che da spiegare la propria cosa vado a montarmi una spina e monterò una sola non due per non darmi perché essendo un pannellino piccolo ma come darebbero fastidio una con l'altra quindi inizia sempre con una sola giusto un goccia di colla vado a montare la prima spina lascio sporgere la spina giusto quel tanto che mi serve per fare la funzione riappoggio il pannello così prendo il mio gig incastro questa parte qua nella spina così vado in battuta nel frattempo cerco di tenere il pannello perfettamente parallelo uno quello sotto uno con l'altro questo è incastrato nella spina ed è contro a questo punto mi serve questo quindi questo qui è il fermo che troverete insieme al kit come regolato è regolato in modo da in modo da far entrare la punta tanto quanto mi serve che sia lo spessore del pannello in questo caso è un po troppo quindi devo regolarla far andare a arrivare la spina più o meno così ok siamo pronti il foro è perfettamente perpendicolare alla spina adesso posso andare a montare la seconda spina così ho un appoggio stabile questo sempre bello preciso vado ancora una volta nella spina così mi guida perfettamente vado in battuta e posso fare il foro ok ok non mi mancava tre A presto. 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 A presto.